Cari amici del Milano Latin Festival, indovinate un po' dove siamo. Siamo ad Assago, nel parcheggio del Milano Latin Festival. Sfidando il freddo e la nebbia, siamo qua per darvi un'importante notizia. L'8 di giugno 2017 comincerà la terza edizione del Milano Latin Festival. Saranno 69 giorni di allegria, di festa, concerti, gastronomia, cultura e tanto artigianato latinoamericano. Dall'8 di giugno 2017 al 15 di agosto 2017. Non mancare, l'estate latina è alle porte. Ciao!